Accompagnare le forme del corpo, sottolineandone i punti di forza e minimizzando i difetti. Creare abiti che si adattino alle silhouette delle donne vere, non di inarrivabili top model. Praticamente una rivoluzione del modo di fare moda. E' questo l'obiettivo di Made on Me, la collezione lanciata dal gruppo Miroglio per il brand Motivi. L'idea nasce molto semplicemente dalla nostra storia, dal nostro DNA. Noi abbiamo sempre dato una straordinaria importanza al concetto di vestibilità, in modo molto concreto, indipendentemente da quella che fosse la taglia, la configurazione della cliente. Quindi astraendo completamente da quello, sapendo che quello era il nostro target. Al classico concetto di taglia è stato affiancato il concetto di taglio, declinando ogni abito in tre differenti shape. Diamante per le donne con i fianchi importanti, perla per le donne con il girovita più arrotondato e sirena per i fisici a clessidra. Lo studio è nato suggerito un po' dalle nostre clienti anche, che quando andavano in negozio magari si lamentavano che vestivano il pantalone magari la mezza taglia in più e avevano bisogno della giacca la mezza taglia in meno. E questo poi soprattutto sull'abito che era un problema maggiore. Stilisti e modellisti del laboratorio di Alba hanno quindi applicato i canoni del fatto su misura alla praticità del pret-à-porter per tutte quelle donne che almeno una volta nella vita hanno provato un senso di frustrazione davanti allo specchio all'idea di non avere il fisico perfetto. La moda al servizio dei corpi femminili, finalmente! Poi come dico sempre io, dobbiamo utilizzarla bene, quindi valorizzarci, creare look, interpretare noi stesse soprattutto. Però in questo caso c'è un buon inizio, una collezione già che ci aiuta moltissimo.